Grazie Presidente, intanto vorrei ringraziare tutte le forze politiche che hanno sottoscritto questo documento, è un documento che arriva a fine consigliatura ma in tempo appunto per promuovere la candidatura di Roma ai prossimi campionati del mondo di skate per quello che riguarda il park. Quest'anno ci sono svolti quelli che hanno riguardato lo street e io credo che questa sia una grande opportunità per la città, abbiamo parlato di quanto sia importante portare i grandi eventi, questa amministrazione ha promosso circa 800 eventi sportivi nei cinque anni di questa consigliatura, alcuni sono stati molto importanti, questo è altrettanto importante soprattutto perché come sapete abbiamo realizzato un impianto importante a Nuova Ostia, un territorio che ha comunque sofferto negli anni passati e credo che questa sia anche un'opportunità di rivalza di quel territorio ma non solo, è chiaro che questi campionati del mondo saranno sicuramente delle gare a ampio respiro che potranno essere svolte su tutta Roma, l'impianto ad Ostia esiste già. Troppo Brusio in aula, un attimo solo, prego consigliere. Se ne potranno anche realizzare altri, nella mozione ho voluto anche sottolineare la richiesta per quello che può contare di impegno da parte dei prossimi candidati a sindaco di questa città anche perché spetterà sicuramente alla prossima consigliatura mettere in atto, mettere a disposizione gli strumenti per promuovere la candidatura di Roma a questo evento, chiediamo anche però in quest'ultima fase molto importante di scrivere da parte della sindaca una lettera di intenti alla World Skate e alla Federazione Sport Rotellistici affinché in sinergia si possa promuovere con forza questa candidatura. È chiaro che lo facciamo tutti insieme e credo che sia anche molto bello questo e il fatto che andiamo a votare in questa assemblea una mozione credo che dia valore e importanza alla candidatura proposta. Per cui ringrazio tutti e naturalmente spero che tutti quanti possano votare favorevolmente questo documento. Grazie.